Bene, Giuseppe, un applauso, subito così, a freddo, adesso vi dico chi è, Giuseppe, Fiorini, di dove sei? Sono di Siracusa, questa è la tua prima competizione Giuseppe? No, è la seconda, hai già gareggiato? Sì, l'anno scorso sempre qui, sei agitato? No, abbastanza, perché giocare in casa a volte provoca un po' di emozione, più responsabilità, allora non ti porto via altro tempo, quella è la tua postazione, ho visto che hai già fatto la parte del tuo lavoro, mio in bocca al lupo, qui è la tua terra, buon lavoro! Giuseppe avrà sei minuti, sei! Per fare due cappuccini in free pouring, utilizzando solo la tecnica della lattiera E due cappuccini in itching, con la tecnica del pennino, quindi decorazione superficiale della crema di latte, della schiuma, solo con l'utilizzo del pennino e questo è quello che Giuseppe ha detto che farà ai giudici Se ci riesce voglio un applauso, se ci riesce e se non ci riesce glielo facciamo lo stesso È un incoraggiamento, dai, un incoraggiamento, ci vuole Abbiamo in giuria Gianfranco Corobelli di Asachimici Pulicav che sta controllando tutte le varie movenze di Giuseppe Quali sono? Ma è allora la dosatura del caffè all'interno del portafiltro, la pulizia della coppa, dei beccucci, delle alette, la pressatura che sia in piano e regolare E poi i tempi di estrazione dell'espresso Come vedete sta montando il latte Cosa sta utilizzando? Giuseppe sta utilizzando una dalla corte DC Pro da competizione, sponsor dei campionati mondiali di latte art e anche dei campionati italiani di latte art E ricordo ai presenti a corsi in questo momento che questa è la prima tappa del campionato italiano selezioni 2015 valide per le finali di Rimini di Sijep che si svolgeranno in gennaio Ecco pronto per i primi due cappuccini, un momento di attenzione Nel frattempo sono trascorsi due minuti e venti secondi Il primo cappuccino è terminato Servito Chiara che è il nostro cappuccino sta valutando insieme ai giudici Roberto e Signor Fiume La centratura del disegno, il posizionamento in tazza, l'armonia, la difficoltà del disegno e anche il contrasto che rimane tra il latte e l'espresso Un applauso spontaneo Accompagna la gara di Giuseppe Chissà 3 minuti e 30 Ricordo 6 minuti totali, ogni 5 secondi un punto di penalità Insomma voi cosa direste ricevendo un cappuccino così il mattino al bar? Sicuramente buongiorno Andrea Sicuramente buongiorno, questo è un buongiorno Buongiorno serio Non si pone neanche la domanda se il barista è più o meno professionale Io direi che uno si risponde da solo E qui c'è dietro dedizione, volontà, tempo, passione, allenamento Che vi assicuro portano sempre grandi soddisfazioni Sono trascorsi in questo momento 4 minuti e 30 Chiara Bergonzi va all'assaggio Chiara Bergonzi è la nostra campionessa attualmente in carica italiana e vice campionessa mondiale di latte e armi Questa ragazza bionda che vedete Che successivamente i 4 competitori che dovranno ancora gareggiare I 4 concurrenti E darà una dimostrazione Attenzione Come dico sempre, aprite le orecchie Darà una dimostrazione di latte art a tutti i presenti Quindi se volete vedere come si fa a imparare Volete prendere maggiori informazioni Sarà qua per noi 5 minuti e 15 Come vedete il tempo scorre Grazie a tutti Se era più grande dove andava Faceva il giro 6 minuti in questo momento Lasciamo terminare con tranquillità la gara di Giuseppe Grazie a tutti Mi sento agitato io per lui Sono emozionato 7 minuti in questo momento Il secondo cappuccino è servito Giuseppe sta sistemando la postazione di gara Perché verrà valutato anche per questo Lo sa bene 7 minuti e 30 7 minuti in questo momento Giuseppe Fiorini Mamma che gara Gli avevate promesso l'applauso eh Complimenti Adesso ti puoi sedere Ci possiamo sedere Com'è andata? Com'è andata? Bene bene Mi aspettavo Aspetta Allora Ti rifaccio la domanda Com'è andata? Bene Che entusiasmo Bene bene Molto bene direi Ti hanno applaudito senza che io chiedessi l'applauso quindi Grazie Dico grazie a tutti Grazie Per me è una responsabilità grandissima perché sono di Siracusa quindi porto il vostro nome qui ecco I miei clienti siete voi Tutto qua Scusate per l'emozione No ma sicuramente ti hanno capito Giuseppe ti faccio un'altra domanda Cos'è che ti ha portato innanzitutto a iscriverti a un campionato italiano quindi a fare la tua prima gara l'anno scorso E perché ti sei ripresentato quest'anno? Allora innanzitutto la mia passione viene da circa due anni fa quando qui venne organizzato il primo evento di Coffee Show Latte Arte Dove No no aspetta ti fermo il primo quattro anni fa Quattro anni fa Gaetano quattro anni fa Quattro Quattro scusate No no tranquillo Fu invitato da Andrea a salire sul palco per fare una dimostrazione di cappuccino E lì tutto è andato avanti perché mi sono appassionato giorno dopo giorno Facendo allenamenti, non dormendo la notte, guardando video a ripetizione Insomma tanta passione, dedizione Che dire Beh speriamo che la giornata Io spero solo che la giornata ti porti bene Insomma che quello che hai fatto, che tutta la tua volontà L'attenzione che hai dato in questi due anni Ti oggi ti possa portare sicuramente dei frutti positivi Poi io la vittoria l'auguro a tutti Sono amico di tutti Ci mancherebbe Grazie a te Giuseppe Riposiziona pure la tua postazione di lavoro Ti fanno ancora un applauso perché te lo sei meritato È innegabile Grazie a te Giuseppe